Benvenuti nel canale Prezzo e Recensioni. Oggi parleremo di 5 TV da 50 pollici che possono soddisfare le vostre esigenze di intrattenimento. Andiamo subito alla classifica. In quinta posizione abbiamo il Samsung TV Crystal UHDUI50V8070UXZT, disponibile su Amazon a un prezzo di 484 euro. Questa Smart TV da 50 pollici offre una buona qualità dell'immagine grazie alla risoluzione OHD Crystal e all'ampia gamma di colori. Inoltre, è dotata di funzioni come Alexa e Google Assistant per una maggiore comodità nell'uso quotidiano. In quarta posizione troviamo la LG Smart TV 50nano 793ne, disponibile su Amazon a un prezzo di 640 euro. Questa TV da 50 pollici offre una risoluzione 4K e una tecnologia NanoCell per una, visualizzazione superiore dei colori. Inoltre, la TV è dotata di molte funzioni smart come Alexa e Google Assistant, che la rendono facile da usare e da integrare nella tua casa intelligente. In terza posizione abbiamo la Sony Bravia KD50X80K, disponibile su Amazon a un prezzo di 699 euro. Questa Smart Google TV da 50 pollici offre una risoluzione 4K e una gamma di colori estesa per un'esperienza visiva incredibile. Inoltre, la TV è dotata di Google Assistant integrato e funzioni smart come Chromecast, che la rendono una scelta eccellente per chi cerca una TV di alta qualità con funzioni avanzate. In seconda posizione c'è la Philips 50pus 8506 Smart TV ULEDU HD 4K da 50 pollici, disponibile su Amazon a un prezzo di 948 euro. Questa TV è dotata di una risoluzione 4K UHD e della tecnologia Ambilight per un'esperienza visiva immersiva. Inoltre, la TV è dotata di molte funzioni smart come Alexa e Google Assistant, che la rendono facile da usare e da integrare nella tua casa intelligente. Infine, in prima posizione abbiamo il Samsung TV Neo KLEDQI 50QN 90AX, disponibile su Amazon a un prezzo di 1100 euro. Questa Smart TV da 50 pollici offre una risoluzione 4K e una tecnologia KLED per una visualizzazione dei colori superiore. La TV è dotata di molte funzioni smart come Alexa e Google Assistant, ed è la scelta perfetta per chi cerca una TV di alta qualità con funzioni avanzate. In generale, tutti questi TV offrono una qualità dell'immagine eccellente e funzioni smart avanzate. Tuttavia, la scelta del TV giusto dipende dalle esigenze personali e dal budget. Si consiglia di valutare attentamente le funzioni e le specifiche di ciascun TV per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Questo è tutto per la nostra classifica di TV da 50 pollici. Speriamo di avervi aiutato nella vostra scelta. Continuate a seguirci per altre recensioni di prodotti a prezzi convenienti. Grazie per averci seguito. Ci vediamo alla prossima!